Amici della Pogonotomia e oggi dell'orologeria, innanzitutto buon mercoledì, proviamo a fare questa rubrica sugli orologi mercoledì, grazie per chi mi segue, grazie per chi sostiene il canale, ovviamente solo per l'acquisto di prodotti per la rasatura, chiaramente non per questi orologi che hanno dei prezzi ovviamente diversi. Innanzitutto ci tenevo a fare una precisazione perché un amico legittimamente mi ha fatto notare che quelli che ho presentato sono orologini che lui vende, va in giro con orologi preziosissimi, va a Milano, allora io mi baso su dei dati ben precisi sui furti di orologi, l'anno scorso sono stati denunciati 6.815 furti di Rolex, di orologi in teoria, non di Rolex, di orologi in generale, per un totale di 1,3 miliardi che non è proprio poco e la maggior parte sono appunto Rolex, quindi voglio dire il nostro amico è molto fortunato oppure conosce quello che voglio dire oggi, cioè degli espedienti per tentare, per chi vuole utilizzare quei brand che sono fondamentali 3, i brand che interessano i ladri in particolare sono fondamentali 3, sono Rolex, Audemars Piguet e Pate Philippe, oggi poi con il fenomeno dei disportivi che amano molto Richard Mill c'è anche quello, però fondamentalmente diciamo che Rolex è la marca più ricercata dai ladri, sono delle bande, io sono in Torino, trovate, scoperte dai carabinieri, delle bande di ladri che agiscono in maniera professionale, cioè individuano l'obiettivo, ne seguono magari il percorso, se l'orologio è molto importante, addirittura ci sono casi di pillinamenti in motocicletta generalmente, ma come potete vedere anche su youtube, per l'altro basta che fate un giro, i metodi sono i più disparati e anche delle volte pericolosi, si va dal classico strappo, lo strappo che cos'è? Cioè il ladro si avvicina da dietro, strappa via l'orologio, scappa, si avvicina con la moto magari, con il motorino, sono in due, sono in due, quindi attenzione se uno ha un orologio diciamo di un certo valore, attenzione quando vedete magari se vedete gente in motorino, in moto con due che vi seguono, che vi pedinano. Quali trucchi, quali espedienti possiamo utilizzare, addirittura evitiamo di fare di eroi, possono rubare l'orologio anche a Tyson, voglio dire, cioè perché il furto è con destrezza, se non con anche minacce delle volte, ma questo avviene non sicuramente con persone che il ladro, l'eventuale è un valfattore, individua come persone potenzialmente pericolose, come reazione, è chiaro che se io sono alto, un metro e 95 e peso 120 chili, è difficile che vi aggredisco fisicamente, se non con una pistola, ecco, però è capitato, è capitato che è quello, però generalmente è proprio una questione di velocità e di destrezza. A Roma addirittura è capitato, c'è un video di una macchina all'americana che si mette di fronte, blocca il conduttore e questi entri spaccano il vetro e rubano l'orologio. Allora quali sono gli espedienti che uno può mettere in pratica se vuole indossare quelli che non sono, come il nostro amico definisce, gli orologini, i miei orologini, ma io non ho bisogno di dimostrare niente a nessuno, ripeto, non ho bisogno di dimostrare, poi anche la provocazione a facceli vedere, a me non faccio vedere niente a nessuno perché faccio vedere quello che voglio io, nel senso che io ho un'idea, dopo aver vissuto anni a collezionare e a vedere i meccanismi, e questa mia idea io la propongo, poi magari è sbagliata, magari uno può contestarla, capisco che un commerciante possa soffrire a senso di dire che è un orologio che è venduto a 20.000 euro, in realtà offre prestazioni molto simili a un orologio che è venduto a 2.000 euro, lo capisco, però io la penso così, dopo tanti anni di collezionismo in cui, ma poi anche la frase quando poi li rivendono, io non rivendo niente, io non rivendo niente, l'orologio si acquista non per essere rivenduto, si acquista perché si ama, ecco questo è il concetto che io ho, se uno vuole speculare, se uno vuole investire non lo deve fare in orologio, lo deve fare in oro, ecco piuttosto, oro, non logi, ecco, ci sono metodi molto più sicuri e molto più, ma non sicuramente in orologio, l'orologio è qualcosa che deve piacere, che deve essere una passione come tante, un divertimento, ma secondo me, io esprimo sempre le mie opinioni, attenzione, mai un tentativo di investimento, anzi, trovo addirittura stucchevole il fatto che sia gente che compra orologi, questi orologini, lo dico il nostro amico che li ha definiti così, orologini magari da 5, 6 mila, 7 mila euro, perché chiaramente bisogna andare su cifre diverse, e poi pretende di rivenderli allo stesso prezzo a cui li acquistati, ma no, perché l'orologio è un bene di consumo, quindi comunque nonostante il fatto che ci siano delle bolle, non sto adesso a ricordare il marketing che ha fatto ad esempio Rolex, che è eccezionale, però comunque è un bene di consumo, un bene che si deteriore, un bene che si viene utilizzato come tutti i beni, perde valore, ma è normale, non è che ci voglia un esperto dell'economia. Alcune referenze effettivamente no, alcune referenze aumentano, perché, ma non lo possiamo sapere prima, attenzione, non lo possiamo sapere prima, ci sono, voglio dire, l'orologio che è solo sulla Luna, 15 anni fa non era considerato abbastanza, anzi era considerato molto poco, oggi è molto considerato, ma questo non è detto che fra 15 anni sia considerato dal stesso modo, quindi io non consiglio, poi ognuno, ripeto, fa quello che vuole, non consiglio di guardare all'orologeria come qualcosa che afferisce al campo degli investimenti, questa è la mia opinione, ripeto. Dopodiché gli orologi che io ho in cassetta gli ho realitati, non intendo, sono orologi preziosi, perché chi mi era lasciato aveva questa possibilità e questa passione e non intendo promuoverli, perché non, a parte che sono orologi di una ventina, trentina di anni fa, ma comunque a dire di quello, hanno un valore sul mercato che comunque non è secondo me, cioè sarebbe A ostentazione, B non è proprio l'obiettivo, cioè l'obiettivo è dimostrare, perché io lo faccio su di me, io ho degli orologi da 200 euro che regolandomeli sul polso offrono prestazioni da due secondi al giorno, allora di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? E oggi non è più come una volta, oggi questi orologi sono orologi con tutte le rifiniture come Dio comanda. Ora non sto dicendo che siano uguali a un orologio di fascia altissima, no, però non c'è quella differenza di prezzo che noi troviamo, questo lo dico io, lo penso io, mi spiace per il nostro amico, penso questo, se voi, come dire, date retta a un commerciante, date retta a un commerciante, benissimo, se volete dare retta a me, ognuno ne ha rispetto, io rispetto il commerciante che deve vendere, giustamente deve valorizzare il suo prodotto, spero che lo commerciante rispetti i me che invece da collezionista, che vede da 70 pezzi, che ne sono proprio pochi, e non sono tutti orologini, credimi, dice la sua, e vuol proporre proprio quegli orologini, come richiamano lui, perché intanto le persone, i soldi hanno un valore, e le persone devono sapere quella che secondo me è la verità, poi sarà sbagliato, ma siccome siamo in un paese libero in cui c'è la libertà di parola, io dico la mia, torniamo agli espedienti per non farci rubare l'orologio nel caso in cui volessimo girare con il nostro Rolex, che è un orologio assolutamente dignitoso, assolutamente, diciamo, di fascia medio alta, diciamo, di base, eh, perché il classico Super Mariner, il classico, non è neanche un orologio così prezioso, perché in realtà, se andate a vedere i listini, costa come tanti altri, non stiamo parlando di orologi, parliamo di basici, da 300.000 euro, 315.000 euro, parliamo di orologi, che di listino sono ben sotto 10.000, però sono molto attrattivi per i malfattori. La prima indicazione, chiaramente, d'estate, d'estate è fare molta attenzione, perché chiaramente col polso libero l'occhio del ladro va subito all'orologio. Fare molta attenzione e se, giustamente, non si vuole privare del proprio segnatempo ambito dai delinquenti, perlomeno nei mercati, nelle zone più affollate, nelle vie più, eh, più affollate, eh, magari mettere la mano in tasca, ecco, questo è un, è un, è un, è un... E poi è importante, eh, secondo me, perché, eh, evita, proprio, mette in difficoltà il ladro, eh, o lo costringe a operazioni pericolose per sé ma anche per gli altri nel senso che può creare una baruffa camminare con l'orologio diciamo lato muro quindi evitare e lo so che non è possibile però fare in modo che anche uno strappo diventi difficile per il malfattore anche se ci sono mille tecniche e non è che questi non sono nove linee però camminando con l'orologio lato muro è più difficile strapparlo quindi devono spingerti non spostarti quindi comunque magari in mezzo alla gente c'è la possibilità di sfangarla e qualcuno intervenga e qualcuno se ne accorga che l'operazione non sia così rapida perché è rapidissima andate a vedere i video ripeto è rapidissima parlando con io da giornalista con Calabiniani e Polizia mi hanno spiegato più volte che è veramente un attimo seconda cosa beh è quasi una banalità ma non lo è per molti l'auto cioè il classico ecco il carica baia ma è sempre così il classico adesso non ho niente al colso il classico braccio fuori dal finestrino e lì ragazzi no lì è proprio come darglielo come regalarglielo allora c'è chi lo mette a destra è già comunque una buona protezione con ovviamente le portiere chiuse però ripeto nel caso di ladri molto determinati come quelli che ho potuto vedere in un video dove appunto hanno bloccato una macchina e hanno sfasciato i vetri per prendere il malcapitato facendoli pure male tra l'altro comunque il ladro se ti ha d'occhiato mentre entri in macchina perché questi non è che ti il furto non avviene casualmente avviene perché tu vieni individuato no? quindi il ladro se ti vede magari soltanto in macchina con l'orologio a destra sul cambio oppure sul volante può fare quell'operazione lì oppure può entrare dal dal vetro dal vetro di destra se invece non sa che tu hai l'orologio la cosa migliore secondo me secondo me toglierselo e riporlo nel o nel cassettino oppure anche semplicemente nel vano porta oggetti dove non si vede da fuori questo è importante perché rispetto quando poi uno perde un orologio anche soltanto dico soltanto perché ce ne sono chi conosce l'orologeria come il nostro amico commerciante che dice che faccio vedere l'orologini sa che chi ha orologi importanti ha orologi da 300 200 200 100 400 anche 1000 euro voglio dire quindi sarebbe anche un po' fastidioso farsi rubare ecco quindi il cassettino è la situazione migliore per fare questo d'inverno è più semplice d'inverno bisogna semplicemente evitare di esporlo semplicemente camminando cioè fare in modo che il polsino della camicia o della maglietta o del cappotto coprano l'orologio ecco questo è il mezzo chiaramente più efficace perché è quasi impossibile essere individuati quello che è capitato a me ad esempio su un Rolex e devo dire che se non avessi avuto il cane sarebbero stati problemi sarebbero strappato perché io sono ripeto una persona che pratica pugilato ecco e sono alto un metro e 91 e peso 120 kg quindi attenzione non stiamo parlando di un fouché questo personaggio si avvicina in bicicletta e mi chiede l'ora chiaramente io in quel momento lì guardo velocemente e mi chiede in inglese attenzione e in inglese gli rispondo a che ore erano tra l'altro era sera era tipo mezzanotte e mezza lui dice ma io non capisco no in inglese cosa ti viene da fare a farglielo vedere è istintivo no mi fai vedere l'orologio questo mi ha preso il braccio e stava strappando il cane che io è intervenuto e lui ha avuto diciamo la peggio nel senso che dovevo scappare perché il cane io ho tre cani diciamo non proprio come dire di razze socievoli con chi attacchi i padroni però questo è un trucco mi ha spiegato proprio cioè voglio chiedere in inglese che ore sono tu gli fai vedere l'orologio e loro te lo prendono quindi altro accorgimento da fare per non per non essere derubati sono numeri ragazzi non non è Marco Traverso che si inventa che esistono le bande dei a Torino c'è proprio stato proprio si chiama la banda dei Rolex sono numeri non c'è assolutamente discussione altra cosa esistono bande che hanno degli informatori all'interno dei locali alla moda quindi anche qua nel limite poi ripeto tutto quello che noi facciamo quando usciamo con un orologio di certe appetibile no sono orologi appetibili o orologi meno appetibili il rischio lo corriamo cioè è inutile dire così non rischiamo questo sarei disonesto e sarei assolutamente vi direi una cosa sbagliata però anche qua l'ostentazione nei locali evitare ad esempio di ostentare sul bancone all'orologio ma perché perché magari come ha dichiarato in un video uno di un capobanda in un mascherato a un'inchiesta che parla di queste trasmissioni questi in alcuni locali ci sono informatori che dietro il bancone dicono guarda che c'è questo qua che ha il cappotto la camicia quadretti dico per dire si invento gli occhiali fatti così e al polso ha un dico per dire un Daytona ecco allora questi ti aspettano fuori e si è spacciato oltretutto questo capobanda ha assolutamente dichiarato che in alcuni casi vengono anche usate armi per minacciare il malcapitato quindi purtroppo il fenomeno esiste ora cosa fare anche lì quando si vede ci si sente braccati cioè queste bande operano in moto in moto e sono in due due persone in moto generalmente due maschi poi ci sono anche casi di maschio femmine quando si sente braccati è molto difficile sfuggire lo dico già subito diciamo che le probabilità di farla franca sono basse la cosa migliore da fare se si ha diciamo veramente uno svia cioè svicola ma se vede che questa moto magari continua a seguirlo per tre quattro cinque sei vie ecco diciamo così non una via perché se no allora saremmo saremmo paranoici ma se abbiamo diciamo ragionevole certezza ragionevole ragionevole dubbio diciamo così di essere seguiti piuttosto entrare in un locale pubblico e chiamare le forze dell'ordine dicono guardate io ho un anologio importante al polso c'è una moto che mi sta seguendo sono qua vedete voi è un modo diciamo forse estremo ma se io faccio un percorso a me non è mai capitato per fortuna questo però un percorso arzigogolato e vedo che guarda caso questa moto continua a seguirmi posso presumere che mi stia seguendo ecco voglio dire quindi per salvarmi cosa faccio entro in un locale pubblico e nel caso chiamo le forze dell'ordine una chiamata in più oltretutto motivata perché se uno è seguito non è mai una bella cosa può salvare un patrimonio che si ha al polso e che si è deciso di indossare e questo ripeto io non condanno assolutamente chi li indossa non ci mancherebbe ancora io semplicemente avverto del fatto che andate a leggere su tutti i siti su tutti i giornali tutti i giorni dei furti mi ha fatto tenerezza un medico che aveva al polso un normale mi pare fosse un oyster e questo medico di fronte ad un albergo lui era stato probabilmente secondo gli inquirenti mi pare in Emilia Romagna forse a Rimini ma non sono sicuro era stato sicuramente attenzionato perché questo qua è uscito a fumare o telefonare forse non fumare no perché era un medico e in un attimo l'orologio è sparito e lui ha proprio detto io ve lo pago due volte perché questo è l'orologio che mi hanno regalato per la laurea in medicina ora per dire no quindi è proprio un attimo quindi uno dei motivi per cui uno dei motivi per cui ma non è il principale io pur ripeto ripeto possedendone alcuni di questi orologi che vengono considerati top ma e hanno un valore una votazione secondo me esageratissima è il motivo per cui non né mi interessa né assolutamente non li vendo perché ho rispetto di chi me ne ha lasciati ma e che non li avrei mai venduti ma poi chiaro che nella vita dovresti essere in grande difficoltà potete anche valutare però non sono cose private sono cose che non poi uno può non crederci a me guardate non me ne frega veramente niente c'è volpe lupa tutte queste stupidaggini qua io non lo faccio ho altre idee ho un'altra concezione dell'orologeria io preferisco sono più sereno uscire con un bello zenith vintage magari un un défi degli anni 70 ben revisionato che tra l'altro distingue perché chi si intende di orologi quello lo riconosce e chi non si intende di orologi riconosce quei 4-5 modelli iconici di queste 3 maison e finisce lì che tra l'altro oggi sono clonati in maniera tra l'altro perfetta quindi oltretutto c'è anche il dubbio scatta il meccanismo di quella famosa borsa dove tu vedi questa borsa e dici ah è falsa poi magari è vera no tante persone sentono dire ah ma guarda quello lì che ha il non so il patefilim ah è un falso perché dovrebbe essere un falso l'hai visto in realtà oggi come oggi esistono copie purtroppo non si fa abbastanza per contrastare il fenomeno del della contraffazione esistono copie che cloni proprio che a giudicare dagli orologi ai stessi e non credete alle balle di chi vi dice no ma io lo vedo non ho bene no no io ho avuto occasione a una cena di poter vedere uno di questi perché c'è uno che ce l'aveva che l'ha ammesso e non aveva non conoscendo l'originale l'originale ma non avendo ovviamente il confronto diretto non l'avrei mai detto ecco potrei dire questa è una cosa che mi sarei molto attenti ma soprattutto ecco apro una parentesi molto attenti anche a chi cerca di venderveli perché attenzione è vero che non li consiglio però ma allora ce l'hanno e tante persone vengono truffate da questi truffatori che hanno orologi che tra l'altro costano tantissimo non è che sono orologini costano magari come anzi un po' meno ma come gli orologini che il nostro amico mi ha accusato di presentare che saranno orologini ma devo dire che il il seicus che io ho acquistato per gioco tra l'altro proprio perché volevo vedere che questo meccanismo non sta sgarrando praticamente di niente quindi su due settimane che lo sto usando ma va bene lo stesso altri tre è un orologino effettivamente lo è perché costa così poco comunque ci sono questi questi cloni quindi mi saremo anche attenti a non farsi fregare da chi invece ostenta orologi falsi e purtroppo questo è un fenomeno che mentre dieci anni fa erano patacche fatte male riconoscibili a centomila metri oggi sono cose e chi è del settore lo sa fatte molto molto bene purtroppo purtroppo che mettono in difficoltà anche i grandi esperti o sedicenti tali quindi io vi ho elencato 4-5 diciamo tra virgolette tecniche per evitare di perdere un patrimonio perché valgono questi orologi comunque hanno un valore anche se secondo me esagerato ma hanno un valore il mio consiglio è quello di optare per orologi magari meno alla page ma magari più cari perché voglio dire esistono marche che nessuno conosce ma che hanno maison che ma scusate ho un termine sbagliato ma che hanno di valori altissimi cioè io sono convinto che ma usando citando una maison famosa che se io giro con un blank pen è molto difficile che me lo rubino perché non è un orologio non è un orologio come dire commerciale così commerciale cioè così commercializzato se io giro con un breguet è difficile che me lo riconoscano no quindi a chi invece ama determinati quei brand diciamo più commerciali che hanno più ma nel senso che hanno più richiesta attenzione perché il fenomeno esiste e inutile negarlo perché parlano di numeri quindi chi lo nega va dalla polizia carabinieri chieda e se ne fanno una ragione poi mi rendo conto che chi commercia di orologi ha interesse a dire ma no ma non ti preoccupare non ti dovranno mai e invece succede può succedere può capitare come può capitare che non lo rubino però il rischio esiste e quindi questa è la mia opinione chi vuole sentirsi raccontare le solite cose che sicuramente sono sbagliate sulla differenza tra questi orologini e quelli che loro considerano orologi perché poi è una questione di mercato vado a vedersi i canali ci sono tanti che fanno televendite che fanno fondamentale televendite cioè che c'è diciamo lo youtuber che ha dietro una giochilleria o più di una che gli propone degli orologi magari poi dopo qualche numero di puntate o gli fa grandi sconti o gli regalano da qualcuno ma gli regalano orologini e da quello che sono non quelli importanti e si sentirà raccontarsi le solite cose e qui io dico la mia che è l'esperienza di un collezionista che ha le sue caratteristiche io ad esempio colleziono di mio tantissimi Seiko che ritengo un brand a clamorosone non è stato valutato anche qui il nostro commerciante inorridirà ma è così ho tanti elvetici ma il mio obiettivo è quello di spiegare le cose come la vedo io quindi chi non è d'accordo a tutto il mio rispetto auguro floridità e affari in un settore che sta vedendo l'aumento dei listini in maniera sicuramente sconsiderata e una certa come dire purtroppo purtroppo una certa non viene la parola un certo immobilismo nel mercato diciamo così su certi su certi brand tanti vogliono ma pochi poi alla fine in questo periodo specifico dopo il clamoroso boom che c'è stato durante il covid dove effettivamente le transazioni erano molto alte questo mi raccontano le persone da cui io mi rifornisco e da cui vado a far revisionare i miei pezzi perché ricordatevi che chi ha i meccanici come ogni diciamo io non dico anche lì cinque anni non è vero se non li usate se li fanno sette otto anni comunque vanno anche un'oliata ogni tanto io ho un cronocomparatore guardo certi parametri quando è il caso riporto le miei orologie di fiducia e mi dicono questo è un momento difficile per tutti ma in particolare per l'orologeria si muove pochissimo mi dicono non lo so mi dicono e purtroppo purtroppo passerà insomma è un momento così i distini ecco dicevo purtroppo i distini stanno aumentando questo non non credo che sia produttivo però queste sono scelte le aziende io non entro cioè non piuttosto non faccio l'acquisto perché ritengo eccessivo il prezzo insomma guardo il meccanismo vedo che un meccanismo magari degli anni 70 e dico ma che senso ha che io acquisto un meccanismo degli anni 70 a quel prezzo lì ecco tante teste tante idee e la mia magari è sbagliata un abbraccio a tutti e attenzione quando ho parato orologi di grande valore ma soprattutto di grande appetibilità occhio alla penna perché purtroppo l'insidio è sempre dietro l'angolo un abbraccio e non buona barbara buona ora a tutti grazie 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 a tutti